Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto in mattinata all'interno dell'acqua disco splash di Montesilvano, parco acquatico chiuso e abbandonato da oltre dieci anni. Il cadavere, secondo le prime informazioni, è stato rinvenuto in uno dei locali della struttura. Sul posto, dopo la segnalazione, sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il medico legale. A trovare il cadavere sono stati i carabinieri della compagnia di Montesilvano nel corso di un controllo nella struttura. Considerato l'avanzato stato di decomposizione e in assenza di documenti di identità, non è stato possibile accertare se si tratti di un uomo o di una donna, né ipotizzare le cause del decesso, che dai primi accertamenti risalerebbe a qualche mese fa. Sarà l'autopsia a ipotizzare le cause di morte e a cercare anche di dare un'identità al corpo senza vita. Le condizioni dell'acqua disco splash fanno discutere da tempo. La struttura, spesso usata come rifugio per disperati, viene segnalata come una discarica a cielo aperto. A maggio scorso il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, aveva anche firmato un'ordinanza che imponeva ai proprietari di provvedere alla rapida rimozione dei rifiuti e mettere in sicurezza i varchi di accesso della struttura, che negli anni 90 fu un vero e proprio tempio del divertimento.